Oggi non una di meno, stiamo sfilando accanto alla stazione centrale di Milano, questo è il corteo delle donne e anche degli uomini che sfilano per la difesa della 194 e per la difesa del diritto alla donna ad un aborto consenziente e soprattutto ad un aborto consapevole, il diritto alla difesa della salute delle donne. Oggi sono qui migliaia di donne in piazza contro l'arroganza della Chiesa, di comunione di liberazione e dei movimenti per la vita che vogliono in tutti i modi disapplicare dal 194. Oggi il partito del CAR è comunque in piazza a difesa dalle donne e a sostegno dalle donne e a sostegno dalla compagna Stefania che il 13 ottobre sarà di nuovo in tribunale contro i baciapili del movimento per la vita. Ricordiamoci una, se spero che sia l'ultimo udienzo per Stefania e che inesca vincitrice, 13 ottobre, ore 13, il tribunale di Milano. È in piazza ogni volta che c'è a difendere i diritti delle donne. Asta vittoria! Sempre! Asta vittoria! Sempre! Asta vittoria! Sempre! Ti lamenti, perché ti lamenti, piglia l'ubastù e tira fuori i denti? Ti lamenti, perché ti lamenti, piglia l'ubastù e tira fuori i denti? Ti lamenti, piglia l'ubastù e tira fuori i denti, piglia l'ubastù e tira fuori i denti.